Italia-Germania, possiamo steccare Forza forza Non c'è enterati, fin da subito come dice Simone Pensiamo a un diesel, è possibile, quindi Consapevoli che la possiamo giocare tranquillamente La palla a terra, forza, veloci Dai, già cominciamo Che serve quello, bingo? Senza paura, senza paura, ci danno spazio, senza paura Buono Va bene, va bene Bravi Buono Pizzà Occhio, occhio che lancia, no? Pressiamolo, pressiamolo, però gli altri devono pressar, sennò lancia facilmente Pizzà Un secondo Senti Poi switcharti con me? Per favore Sì Sì Quando vuoi Sì Alma, rai Oh, bravo Jones Dai 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 Bravo Bravo, vini Ah, rica ci danno spazio un mezzo eh Se noi siamo tranquilli come prima, riusciamo Prendolo l'attaccante alto io eh Ma che sono grossi eh Ma che sono grossi eh Mamma mia Che corretti fuori Fermi, 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 fermi Buona Ok, saliamo Attenti, lancio Buona, bravi Buona Buona Sì Andiamo lunga Salite, 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 salite Qui? Occhio, occhio seconda, bravi Va bene, va bene, va bene, va bene Loro la giocano così, sul fisico, sui contrasti Sulla palla lunga X subito, bravo Perfetto Perfetto Ora, bravi Calmi, calmi, calmi Buona Bravissimo Può ad esterno io eh Bravo, Righi Bravo Grazie Grazie Bravo 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 buttiamo senza prezzo bravo la usa un po e si vera alber troviamo andiamo andiamo sperando aiuto lo era solo dove andare per forza in avanti lo siamo sì ma il buono non sono d'accordo comunque ci stavate anni dietro però non andiamo dietro li siamo avanti di cdc cdc un'altra volta dall'altra parte la gira centrale centrale concentrati che lancio sobravi avanti regale che sfruttano bene il gioco vedete ora sobravi venire laterale wolf anche io prendo 10 buono va bene in laterale in laterale wolf poi su parliamo l'occhio occhio non troppo non troppo perché se copisce testa lui va in porta bravi ai premi vai vai bene bravo corta bravo bravo buona kids bravo giovanni ma sono rischiata ma è doveroso bravo colpa mia sono coglione o bravo con te l'ho chiamata ma come se non si rito mezzo che roba concentrati concentrati ma l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto gira proprio tranquillo invece di pressarlo ma io l'ho pressato ma risperava fatto no di mezzo all'area rigolo bello lancio buona wolf peccato peccato ragazzi buona dai dai forza siamo un po' a lungolino sta carico per quadrata ma laura che mostro abbiamo aspettato anni di video per tranquillamente forza c'è siamo la siamo la siamo la bravo bingu gioca 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 eh no ma sta un co vedendo di me bravi bravi solo bravi che ricky va bene va bene va bene bravi fallo la sua vita non mi si muove il gioco tranquillo sai tranquillo battitelo come l'ho detto battitelo come l'ho detto occhio dietro eh raga 3 2 1 è buona vai ancora corte buona stiamo lì presto 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 sei addosso sei addosso bravo bravi e che culo stiamo lì vado io vado io vengo io vengo io ehi no c'è questo che cross è sua non ce l'ho ma non male dai 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 bravo raga qua non possiamo fare niente state tranquilli dai dai mettiamoci 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 bravi colpesti così buono e con l'ultimo è in mezzo qualcuno si buona moto ancora 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 peccato va bene va bene eh raga l'ultima azione c'è hanno vinto 7 ripari che dobbiamo fare l'ampo che è niente tre porte nostra cross pure nostro niente dai come se fosse 0 a 0 dai forza 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 loro sono bravi avanti dobbiamo stare attenti ripeto sfruttano sempre la spizzata cross tesi sono bravi però dietro no simo qualche buchetto qualche buco c'è se la stanno giocando quindi qualcosa lascia e che lancio via chiudietro è nostra bravo buona non la buttiamo rega non la buttiamo non la buttiamo Samu qua è regalo proprio non la buttiamo bello come c'è il terzino male giorni è venuto proprio in anticipo hai fatto un bel movimento bravo tu occhio mi ha preso un occhio buono bravo vinc teniamola 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 occhio chizzi non è andata sopra occhio al lancio rega occhio al lancio però l'attaccante lo devi pressare fa niente fa niente dico quando dico occhio al lancio l'attaccante però lo devi pressare se non lancia tranquillo bravo 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 va bene va bene va bene va bene bravo usiamo va bene bravo ma scusa 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 vuol ah che buona occhio dietro occhio dietro bravo 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 fallo calmi eh calmi aspetta bravo x semplici bravo niente copriamo niente copriamo buttavo giù bravo bravo vabbè acce dietro ragazzi occhio uno o meno ascoltate ehm premix intanto speriamo che va fuori perfetto ah facciamo una cosa ehm pingu difensore centrale no e io c'ho il cc non fa niente fa niente vieni 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 c'ho il cc il gioco terzino difensore centrale pingu e chizi vieni a far mediano vieni a far mediano mediano ti sta dietro buona vai 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 ho tirato fa niente fa niente buona bravo io non ti aiuto eh franchi perché vai vai tranquillo vai tranquillo basta che i miei danni mi fanno filtro lì chi zì fai il mediano chi zì si si no devi stare sempre dietro si si buona 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 fa niente fa niente fa niente fa niente occhio a quelli alti che c'è uno in più va bene va bene abbiamo un po' soffrì anche vieni vieni se vuole wolf ok andiamo su sulle seconde mediano non spingete togli la corsa che esiste sempre dietro davanti alla difesa davanti alla difesa più dietro robin robin buona dai dai non è facile si lo so lo so concentrati su uno scarico un lancio loro salgono tanto quindi dai dai lo so secondo attento ha fatto l'animazione del cazzo bravissimo sono vai 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 che te lo mangi la wolf mangi ti metti male come linea ci siamo ci siamo brawping va bene va bene un gran pericolo l'amina 82esimo siamo al vinci forse che ho seconda buona 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 lancio va bene va bene va bene va bene non ti ho preso occhio lo possiamo fare lo possiamo fare vai presto 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 ok lo possiamo fare lo possiamo fare calmi lo possiamo fare avanti avanti lo possiamo fare va bene va bene ce l'abbiamo ancora l'ultima ce l'abbiamo laterale del wolf e spitz taglia frank taglia taglia tutto il campo taglia tutto il campo noi occhio dietro bravo bravo buona buona non c'è di fa simone che c'è nella maniera di non uscito più che altro ragazzi è piuttosto che me io pensavo di mettere piuttosto samu che era più alto il settaggio ada cioè io stavo proprio col settaggio cc una bella comunque una canzone hai fatto pure due tre chiusure fatte bene si ho capito però come faccio a saltargli ce lo posso tenere quanto voglio vabbè ma l'errore raga fa l'icrossa bravo